E' bezzanotte, Pairo! Domenica 20 febbraio alle 21.15 il palco dei Vigilanti ospiterà lo spettacolo Persone Naturali e Strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi con un cast di riconosciuta capacità artistica sul quale spicca Marisa Laurito. Quattro solitudini, un appartamento e una notte di capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva di un bordello, discute e lidica con Maria Callas un travestito in bilico fra rassegnazione, ironia, squallone e cattiveria. E ancora Fred e Byron che sono alla ricerca dell'ebbrezza di una notte l'uno, uno studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure l'altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti che per un gioco del destino divideranno la loro solitudine con quella degli altri mentre fuori la città saluta un nuovo anno. Persone Naturali e Strafottenti è una commedia cruda, poetica e silarante fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo. I biglietti sono in vendita fino al 20 febbraio presso l'Info Point di Porto Ferraio o possono essere acquistati anche presso la biglietteria del teatro.